ciao ragazzi bentornati qua sul canale è un piacere ritrovarvi qua vi ricordo accendete la campanellina e iscrivetevi al canale per non perdere tutti gli altri video ulteriori che seguiranno oggi parliamo del canale musica la musica come molti sanno è un linguaggio che mondiale diverso dal parlare inglese da parlare francese italiano tutte le altre lingue che noi conosciamo in ogni lingua c'è una grammatica e ogni grammatica ha delle sue regole così anche in musica esiste una grammatica e questa grammatica è quello che ci fa suonare è quello che ci fa imparare a leggere uno spartito è quello che ci fa capire che cosa abbiamo scritto su uno spartito perché se io vi faccio vedere per esempio qua molta gente vedrà solo che dei segni e dirà ok perfetto e questi segni che cosa sono a ogni segno corrisponde una noto corrisponde una pausa corrisponde comunque un qualcosa che noi dovremmo fare quando noi ci accingiamo a suonare il nostro strumento io in tutto il mio escursus musicale ho sempre fatto più o meno l'autodidatta ma ho trovato dei libri che ho letto e comunque che diciamo che non dovrebbero mancare nella nostra biblioteca musicale tra questi libri ce ne sono due cioè tre che vi voglio far vedere ma in particolare due allora il primo libro che ogni musicista o comunque ogni persona che pratica la musica l'ascolta è praticamente quasi impossibile non averla questa le garzantine della musica questo è un progetto enciclopedico chiamiamolo così che tratta l'argomento della musica all'interno ci sono delle schede di approfondimento degli appendici è un dizionario anche dei musicisti perché all'interno andiamo a trovare qualsiasi compositore o musicista che hanno fatto la storia della musica andiamo a trovare all'interno tutti quei termini che sono le terminologie tecniche della musica se noi lo apriamo andiamo a trovare anche al suo all'interno illustrazioni e comunque la sua disposizione è come un vocabolario all'interno di esso vi sono molte spiegazioni molte termini che a volte non conoscevo perché questo libro questo libro principalmente per due motivi uno perché quando si studio comunque leggo qualcosa di musica tante volte non conoscendo il termine me lo vado a cercare qua sopra io ho scelto questo delle garzantine perché è praticamente ragazzanti quella che li ha tirati fuori queste tipologie di libri poi per carità ci sono anche altri argomenti come chimica economia filosofia geografia italiano medicina medioevo qua dietro potete vedere tutti gli altri libri che sono stati creati lo potete trovare sia in biblioteca che anche su amazon ed è diciamo la bibbia se così la possiamo definire di noi che ci piace ascoltare la musica suonarla o che comunque ci approcciamo anche solo all'inizio della musica un altro libro che ho trovato praticamente molto interessante anche bello da leggere e da un titolo particolare come ho parlato prima abbia detto grammatica sì perché esiste il libro la grammatica della musica la teoria le forme e gli strumenti musicali e gli strumenti musicali è un libro di otto caroli è un'introduzione alla fine a quello che è il mondo della musica vengono esaminati poi quelli che sono i concetti principali di tutta la teoria musicale in questo libro vengono spiegate le caratteristiche del suono del linguaggio le forme tutti gli strumenti la terminologia che spesso mette in imbarazzo anche le persone come me che sono neofite viene prestato anche particolare attenzione a come una guida pratica per risolvere praticamente anche solo le difficoltà per poter ascoltare la musica perché questo libro al suo interno abbiamo molta teoria spiegato in maniera semplice e molto discorsiva è composto di praticamente cinque parti queste parti principali sono i suoni simboli quindi vengono spiegati tutta la terminologia del suono la notazione musicale cosa sono i tempi cosa sono le indicazioni dinamiche e le tonalità nella seconda parte l'armonia e il contrapunto la terza parte le forme musicali la quarta parte gli strumenti e le voci e la quinta parte la partitura e lettura della partitura diciamo che sono praticamente argomenti che vanno alla base diciamo che ancora prima di magari prendere lo strumento in mano è buona norma conoscere quello che sono le basi della fotografia poi per carità io ho fatto già prima i video del sassofono su come fare le note perché comunque anche l'approccio del sassofono ha bisogno di tanta pratica ci esiste la teoria ma ha bisogno di tanta pratica e quando poi arriveremo a saper fare anche le note ancor prima dovremo saper leggere uno spartito quindi saper leggere le pause la durata delle note quanto durano le pause saper leggere se siamo in chiave di violino in chiave di basso a seconda dello strumento che noi suoniamo sapere qual è la differenza visto che alcuni come tipo il sassofono sono strumenti transpositori e sapere qual è la differenza tra uno spartito per piano uno spartito per sassofono sapere la differenza qual è del tipo di tempi un tempo lento un tempo veloce esercitarsi alla teoria esercitarsi alla pratica sono due cose che non dico di fare prima una o poi l'altra o seguire un metodo o un altro diciamo che il sassofono in questo caso perché noi su questo canale parliamo di sassofono principalmente è uno strumento transpositivo quindi se già suoniamo insieme a un piano a un flauto o una chitarra non avremo lo stesso spartito quindi ci sarà la teoria anche su come spostare lo spartito del piano per adatto per noi un altro libro che è un po più discorsivo e anche un po più diciamo mattoncino perché comunque è un approccio particolare alla spiegazione della musica questo libro qua come funziona la musica di david birne questo libro è stato nominato come dal new york times quale best seller e è praticamente la raccolta di una vita di questo scrittore che era un musicista e vorrei leggervi praticamente la spiegazione del libro perché ha lasciato praticamente un discorso profondo o meglio è un discorso particolare perché quando voi lo andrete a leggere ci sono anche immagini a colori o in bianco e nero ci sono varie spiegazioni è più un racconto che un testo come possono essere la garzantina o la grammatica di otto caroli che parlano di tecnica e teoria questa prefazione dice come funziona la musica e l'eseburante celebrazione di un soggetto di cui david birne ha dedicato la propria esistenza creativa birne attinge alla propria pluriannale esperienza con i talking it's brian e no è una miriade di altri collaboratori insieme a viaggi in teatri lirici wagneriani villaggi africani in qualunque luogo esista la musica per mostrare come la creazione musicale non sia solo l'opera del compositore solitario bensì il risultato miracoloso di circostanze sociali come funziona la musica il libro di una vita che racconta con passione al potere liberatorio e vitale della musica leggendo questo libro all'inizio vi sono praticamente all'inizio di dove vengono spiegati i capitoli parla della sua vita sul palco della tecnologia come plasma la musica che cos'è il suono oggi visto che siamo anche nel digitale parla degli studi di registrazione parla di come far nascere una scena parla di persone che hanno iniziato a suonare e quindi come si approcciano alla musica come suonano assieme ad altri parla di tutto quello che è la musica per dire la musica africana come influenzato della musica la musica americana la musica jazz blues musica gospel musica e canti gospel ha influenzato parecchio la mia idea di musica perché comunque mi ha fatto vedere la musica come un linguaggio che unisce le persone come un linguaggio che collega dei popoli perché se io ho uno spartito preso in america e lo leggo riesco comunque a leggerlo riesco comunque a capire poi per carità magari non conosco né l'inglese né francese né il tedesco parlo solo l'italiano però se mi metto a suonare con altra gente sia che leggo uno spartito oppure anche solo suonando per interpretazione e quindi suonando per interpretazione sappiamo conosciamo le scale conosciamo i ritmi e quindi suoniamo a interpretazione su quelle basi la musica è istintiva la musica è un processo che ci fa entrare in una specie di condizione quasi diciamo mistica perché allevia le tensioni allevia quello che è il pensiero allevia quel tutto quello che è le cose brutte della giornata arrivare a casa prendere il proprio strumento mettersi le cuffie accendersi delle tracce audio comunque mettersi anche solo suonare per una mezz'ora un'ora al tempo che abbiamo ci dà la possibilità di scaricare tutto quello che è la fatica la musica almeno comunque anche per me passo il tempo suonando leggo e comunque mi sono formato ho avuto delle basi sono entrato in un'altra diciamo dimensione nel senso che comunque prima ero solo con cognizioni teoriche frasi significati di cose sparse quella quindi una lavagna scritta con tante nozioni tante idee tante cose che non capivo tante cose che non avevano un senso logico magari ma che facevo perché la teoria musicale dice questo dopodiché ho iniziato a prendere questi tre libri e di cui uno me lo sono praticamente divorato che torna a ripetere questo la grammatica della musica e l'ho riletto perché comunque fa capire in maniera semplice tutta quella che è il complesso e difficile mondo della musica anche perché la musica è un ambiente si di teoria ma alla base della musica ci sta la psicologia ci sta la matematica e c'è anche una parte di storia c'è anche una parte di letteratura e voi mi direte perché allora la matematica è basata su regole 1 più 1 fa 2 2 più 2 fa 4 ok perfetto quando noi andremo andiamo a prendere uno spartito subito il simbolo dopo la chiave di violino abbiamo una frazione quella frazione ci dice quante battute e quanto è il tempo quindi noi andremo se andiamo a contare dopo nello spartito nella battuta troviamo che quelle tot note sono frazioni di un intero e comunque avremo un tempo il tempo calcolato anche volendo dirla in minuti secondi passatemi il termine tra virgolette perché comunque il tempo è questo quindi noi sappiamo che se abbiamo un tempo così ogni schiocco di dita o comunque ticchettio del metronomo dobbiamo fare tot note quindi qui spiegato perché la matematica ma la musica essendo anche comunque interpretazione va a prendere anche un discorso storico e di letteratura per esempio se noi andiamo a prendere un compositore di musica classica per poter capire meglio quello che voleva comunicare perché comunque la musica è un trasmettere un qualcosa un'idea un pensiero per capire meglio la situazione andiamo a esaminare il contesto storico di dove quello scrittore cioè per scusate quel musicista era collocato era un periodo storico tranquillo era un periodo storico dove c'erano guerre dove c'erano crisi e anche comunque quello che è il contesto a livello letterario perché perché a livello letterario nella storia sappiamo che ci sono stati vari periodi il verismo il periodo medievale e tanti altri periodi l'illuminismo quindi quello che era il pensiero in quel periodo ci fa capire anche cosa voleva comunicare quel dato musicista infatti è come viene anche detto qua su questo libro è buona norma capire il contesto capire la persona capire cosa stava vivendo cosa stava passando in che ambiente era e da quello che poi lui suona e dice dopo di lì potremmo anche comunque capire meglio quella musica che noi stiamo ascoltando attraverso anche la garzantina ci sono andate a leggere delle voci che hanno mi hanno spiegato anche meglio il contesto un'altra cosa che sono rimasto colpito è stata quella del metodo suzuki suzuki non marca di moto ma suzuki era una persona che ha praticamente insegnato ai bambini a suonare uno strumento in questo caso il violino ascoltando prima il brano quindi gli veniva detto senti prima il brano glielo faceva sentire e poi dopo gli diceva adesso cerca di risuonarlo uguale usando lo strumento questo è un metodo che a livello di conservatorio diciamo che non è tanto canonico premesso io non ho mai frequentato il conservatorio ma la teoria del conservatorio dice prima impari le note impari i ritmi impari i salti di terza di quarta di quinta impari le scale impari a suonare il tuo strumento ti eserciti leggi lo spartito e man mano acquisisci la pratica e la dimestichezza col tuo strumento io tante volte è un metodo che ho utilizzato non conoscendolo nel senso che comunque col sassofono o con la chitarra sentivo un brano e mi veniva la cosa di cercare di ripeterlo quindi mi mettevo lì lo sentivo cercavo le note quali erano o gli accordi eventualmente con la chitarra e cercavo di risuonarlo uguale a quello che era il brano originale risultato ho imparato tanti brani senza avere lo spartito senza leggere lo spartito poi per carità mi sono andato anche a cercare lo spartito e ho imparato quali erano le pause e dove magari io sbagliavo però fa parte di sempre di quel discorso che abbiamo fatto prima dell'interpretazione quel disco dell'improvvisazione quindi cercare di associare a un suono che noi abbiamo sentito una determinata posizione sullo strumento un determinato nota e quindi la riproduzione di quello che noi abbiamo ascoltato adesso non voglio farvi un discorso tanto lungo perché comunque è già da un attimo che che parlo vi ricordo i tre libri di cui vi consiglierei di avere nella vostra biblioteca è delle garzantine quella che si occupa della sezione musica la grammatica della musica di otto caroli e se volete poi capire un po di più nell'ambito musica nell'ambito musica di gruppo anche questo libro qua come funziona la musica di david bern questo libro che trovate dalla mondadori o comunque lo trovate anche su amazon questi due libri qua così io li ho presi sempre dal solito negozio mio di fiducia lepre ma ma comunque in una qualsiasi biblioteca che avete nelle vostre zone le potete trovare è stato un piacere stare con voi oggi e parlare di quella che è la nostra passione e continueranno a esserci altri video se mi richiederete su argomenti che magari mi chiedete o comunque come state facendo tramite mail vi invito comunque a commentare sotto ai video vi invito come sempre a iscrivervi al canale accendere la campanellina per rimanere aggiornati sui video e vi chiedo anche di mettere un like sotto ai video con questo vi saluto buona serata a tutti e ci vediamo al prossimo video ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti